Salve a tutti, sono Rosanna Vittoria e voglio parlarvi di quello che per me è il braccio all'italiana. Personalmente reputo questo pasto che per noi italiani è ancora in via di approfondimento, un comfort meal. Ed è per questo che ho voluto immaginarlo a casa. Apro il frigorifero e cosa trovo? Del formaggio, della frutta e invito un'amica a cui chiedo di portare un dessert. Ecco così che nasce l'idea del mio piatto, un ospite inatteso dal frigo alla tavola. Troviamo una fetta di formaggio che in realtà è fatta di gelato al gorgonzola, su cui sono riprodotte le caratteristiche delle nature. Dell'uva anch'essa fittizia, i cui acini racchiudono una composta di vino cotto. E infine il dessert, una ciambellina alle noci e caffè, su cui è adagiata una gelatina di caffè. E poi anche, buon appetito!